Tanta guagna per tweet ragazzi, sono Weaver, eccoci qui nel settimo episodio di Castle Gaming che stavolta è su Dead Space il primo capitolo E volevo fare il primo capitolo perchè, cioè, come fai a capire il terzo capitolo se non sai i primi due? Secondo me è una questione molto importante questa, e praticamente questo gioco avviene su una base spaziale, che è tipo una miniera diciamo, è diciamo un virus o degli alieni, non voglio spoilerarvi tutto, hanno iniziato a infettare o a invadere la nave Oddio se stiamo peschiantando, no, quasi, che culo, credo che stiamo peschiantasse all'asteroide Se non c'è energia va potenziato il segnale Si certo, potenzi il segnale, di più Mai sentito di un blackout totale delle comunicazioni su una di quelle cose, mille persone a bordo e nessuno che riesca a trasmettere Che sfigo Mi sa questi qua, sono infetti o sono gli alieni che gli stanno a piegare il culo C'è una varia, sono tutte scusi In realtà lo stanno insultando un botto questi eh Non so se avete capito ma Vabbè Cazzo Mi sa qua Succede qualcosa di brutto eh E lo scudo è stato attivato Dai cerchiamo di uscire i vivi da qua Che è successo è un casino Dai, risvegliate Stai tutti bene Cosa? Cosa diavolo credevi di fare? Volevi ammazzarci tutti Ho appena salvato il culo a tutti, Miss Tennis Interrompendo le operazioni a quella velocità e distanza ci saremo schiantati sul fianco della Ishimura Ora diamoci una... Dai, basta, parla, voglio giocaio Mi vuoi via l'infarti Non ricevo dati dal propulsore di Babordo Abbiamo perso comunicazioni e pilota automatico Ecco intanto il nostro personaggio si mette Il casco in testa, diciamo Come cavolo si chiama Oh, che ti tocchi? Che... Che tocchi là? Che sta a fare? Che è superata con successo da tutti Molto bene Stavi a toccare Andiamo Dai, non voglio vedere qua tutto il panorama Tutta la nave Voglio uscire Voglio and... Non voglio spaventare Sto gioco è fatto apposta Ok, ho capito Tutti i giochi hanno la corsa O quasi tutti Tutti quasi con shift Dai Si, era Era la nave Miniera là Attendere Mmm, che palli Camminata Proprio quella Dai, quanto tempo Che fa due passi O c'è Proprio lenti Peggio delle lumache Questo si era capito che non c'era più energia Attende Si, voglio Voglio aprire sta porta Apri Si, aprire? Guarda, si Certo che voglio aprire Certo che voglio aprire Oh, ce l'abbiamo fatta No, non te voglio fa passà Non te voglio fa passà Cazzo si è passata Ma se dobbiamo andare a vedere qua Se no Non era aperta questa Già mestruazioni sul pavimento Non mi piacciono Eh Dovrebbe esserci un addetto alla sicurezza qui Sì Beh, non c'è Non c'è nessuno qui Non rilevo alcuna trasmissione A parte mostri che te vogliono Sgozzare Te vogliono Mangiare vivo Eh, sempre fa tutto io eh Sempre io Ok, basta che ti sbrighi Isaac Oh, Isaac La mossa Isaac Sti cavoli Probabilmente abbiamo attivato uno schermo che fa lampeggiare un po' di lucette Gli spostamenti non saranno facili L'aria è tornata a circolare È già qualcosa Che cosa è stato? Il sistema di quarantena automatico deve essere scattato quando sono ritrovato Si guarda, c'è sta sta luce no qua Passa se uno poi non ci sta più Eh Ecco il primo mostro Guardati dietro Guardati dietro Sorpresa Sì, tutte C'hanno proprio una mira poco al sedere c'hanno Però non ti al culo Vattene, vattene, vattene Corri, oddio, oddio corri Peggio di amnesia oh Oddio corri Che te, che te in culo dalle spalle Vattene, vattene, vattene No guarda, me ne resto qua Fammi in ciula Corri, 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 corri Sbrigate, premi Vattene Oddio che culo Ci siamo salvati Ma che cazzo Oddio, oddio, oddio Oddio Ci gioco a palla oh Ci gioco a pallone con la capoccia tua Mannaggia Mi ha fatto via un infarto Mi ha fatto via Cioè A calcio Like a pro player Noi non voglio più più a dread Un progetto che si deve fa' Poi già sta Ha bevuto troppo questo Prendiamo l'arma E qui si vince il video Spero che vi sia piaciuto Mettetemi un bel mi piace Iscrivetevi A guagna E se volete Date un'occhiata anche il mio canale Che sta in descrizione E ciao